Ciao sono Jacopo Ricci, lighting designer e direttore creativo. Il mio lavoro parte ovviamente da uno studio della linea creativa che il DJ, in questo caso Klaus, vuole portare al pubblico. Studiando poi le canzoni vado a esplodere quelle che sono le varie sezioni del set e vado a studiare poi quali sono i look a livello di luce che secondo me, secondo il mio gusto personale e in questo caso secondo anche andando poi a congiungermi col mondo Audi sono più appropriati per quella determinata parte di set. Il mio lavoro cambia molto se devo andare ad operare in un ambiente esterno o interno, in questo caso ovviamente siamo all'aperto e il mio il mio punto focale, la mia attenzione era tutta rivolta all'essere invisibili ed è anche per questo motivo che il palco dove Klaus ha suonato è circondato di specchi per renderlo il più possibile integrato nell'ambiente circostante. Fortunatamente dal punto di vista tecnico abbiamo avuto un partner di prima scelta che è MG International che ci ha fornito materiali all'avanguardia che potessero ovviamente sostenere queste condizioni. Oltre alla tappa di Vanderlust a Cortina, su myaudi.it potete scoprire molti altri contenuti legati al mondo dell'innovazione e del design.